Tornano i parcheggi a pagamento in centro al terminal di Collemaggio come anticipato da Riteotto tempo fa ma il ritorno a quella che è una sorta di normalità che c'era prima del sisma sarà graduale. La conferma è arrivata da tempo ormai dall'assessore alla mobilità Paolo Giuliani che vuole tornare alla situazione che c'era prima del sisma. La misura è contenuta nel piano parcheggi secondo l'assessore questa scelta riporterà più ordine e disciplina in centro. Il ripristino sarà graduale ma sono già state individuate le aree dove le strisce da bianche diventeranno blu salendo dalla villa comunale sul lato sinistro della carreggiata su Viale Rendina, Piazza Nove Marti di Santa Mera di Farfa, San Bernardino e Via Zara oltre alla Fontana Numinosa e Viale Gran Sasso. Si sta cercando una soluzione per i posteggi riservati ai residenti ma cosa pensano i commercianti del pagamento di questo ticket in base alle ore e ai minuti di sosta che prima del sisma era in vigore? Sono d'accordo a metà per lo più. E vorremmo che anche questa volta venissimo come associazioni coinvolte perché questo perché è giusto i parcheggi a pagamento ma bisogna anche vedere come il modo come attuarli perché io ritengo di aspettare ancora qualche mese fino a quando sarà operativo il nuovo parcheggio di Porta Leone all'inizio saranno sui 160 170 posti benissimo e si inizia gradualmente a pianificare quello che può essere la sosta a pagamento ma capiamo una cosa il terminal di Colle Maggio per quando riguarda specialmente gli operatori del centro storico deve rimanere gratuito anche perché è gratuito e soprattutto funzionare il tapirulan perché così noi riusciamo a dare possibilità ai potenziali consumatori delle nostre attività ai pionieri io l'ho sempre chiamati che hanno avuto il coraggio di riposizionarsi al centro storico dare la possibilità di trovare il parcheggio perché purtroppo noi stiamo ancora in piena ricostruzione nel centro storico dell'Aquila quindi regolarla sicuramente ma gradualmente dobbiamo dare la possibilità di sia di fare i parcheggi a pagamento ma sia di rendere anche la sosta quando meno gratuita per gli operatori del centro storico